Non abbiamo finito con questa funzione perché va beh, innanzitutto scriviamo anche questa derivata con lo stesso termine altro poi qua ho x 4x che moltiplica x quadro x non quadro meno 2x che moltiplica 2x quadro meno x non quadro allora quindi qui ho 2x quadro qui metto in direzione 2x poi viene 2x quadro più y quadro meno 2x quadro 2x quadro meno 2x quadro se ne va più y quadro un'altra volta quindi viene 6xy si è fatto bene 2x quadro 2y quadro più y quadro va bene ok queste sono si chiamano le derivate parziali prime della funzione allora queste sono funzioni alla loro volta quindi possiamo vedere se alla loro volta addirittura queste funzioni come dominio hanno un dominio più grande della funzione precedente perché queste qua sono definite tranne che su quelle due rette perché sono definite ogni volta che questa espressione è diversa da 0 nell'origine questa espressione è uguale a 0 quindi è inutile dire togliere anche l'origine adesso queste sono due funzioni separate posso pensare di derivarle a loro volta ok è chiaro che dall'ispezione che hanno come rapporto di polinomi queste avranno una delle derivate allora cominciamo a fare deriva rispetto a x due volte come si indica? si indica con questo simbolo qua derivata seconda di f rispetto a x quadro è come per le funzioni di una variabile io derivo due volte le due in dx quadro solo che usiamo siccome la derivata è sempre passata usiamo sempre il d e calcoliamo in x y adesso che cosa devo fare? adesso devo fare il denominatore a quadrato allora il denominatore innanzitutto mi conveniva calcolato quindi abbiamo 2x alla quarta poi qua c'è 2x quadro y quadro meno y quadro x quadro più x quadro y quadro meno y quadro quindi qua abbiamo 2x alla quarta più x quadro y quadro meno y alla quarta tutto a quadrato tutto a quadrato al numeratore cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare la derivata del numeratore per il denominatore non derivato quindi 6y quadro per 2x alla quarta più x quadro y quadro meno y alla quarta meno la derivata del denominatore sempre rispetto sempre rispetto a x quindi 8x cubo più 2x y quadro per il numeratore non derivato 6x y quadro vabbè qua non mi interessa svilupparlo la derivata penso di aver fatto bene ma insomma se c'è un errore lo correggete se lo trovate adesso a custom lo correggete non c'è tutto mi interessa più mi interessa più la seconda derivata questa qua si chiamerà radia seconda di f fatta prima rispetto a x e poi rispetto a y la variabile rispetto a cui si fa prima la derivata si mette a destra quindi la detta così significa prima rispetto a x e poi rispetto a y questa era già derivata rispetto a x la deriviamo ulteriormente quindi compare un d quadro sopra per dire che è derivata un'altra volta ma rispetto a y calcolata sempre nel punto x il denominatore è lo stesso 2x alla quarta più x quadro e più se non quadro meno y alla quarta solo che stavolta devo derivare rispetto a y quindi ho 6x ah scusate devo derivare rispetto a y quindi 12xy che moltiplica 2x alla quarta più x quadro y quadro meno y quadro meno 6xy quadro che moltiplica derivando rispetto a y questo sparisce qua ho 2x quadro y meno 4y uguale questa la continuo la sviluppo questo è il denominatore sotto allora il denominatore sotto è 2x alla quarta più x quadro x quadro meno y alla quarta al quadrato sopra c'è allora qui abbiamo x alla 5y e ne abbiamo 24 24x alla 5 poi abbiamo x cubo y cubo e ne abbiamo 12 ma qua di x cubo y cubo poi ne abbiamo 12 e se ne va poi ce ne abbiamo x y alla 5 ne abbiamo meno 12 x y alla 5 ne abbiamo più 24 quindi meno 12 più 24 fa più 12 x y alla 5 questo numeratore se preferite lo potete riscrivere come vabbè il denominatore sembra lo stesso qua mettete 12xy in evidenza e qua viene 2x alla quarta più y alla quarta questa è la nostra di rì sempre se abbiamo fatto bene adesso questa qui non serve più perché l'abbiamo già usata andiamo a fare le derivate di quella di sotto quella di sotto in particolare la voglio derivare rispetto a x stavolta cosa sarà sarà la derivata seconda di f fatta prima rispetto a y e poi rispetto a x calcolate x allora questo a quanto è uguale il denominatore è sempre lo stesso come scriviamo al quadrato quindi 2x alla quarta più x quadro y quadro meno x alla quarta e poi devo derivare rispetto a x allora sopra mi viene meno 12xy per il denominatore non derivato il denominatore qua sotto è al quadrato quindi 2x alla quarta più x quadro x quadro meno x quadro alla quarta meno meno devo fare il numeratore non derivato quindi viene più 6x x quadro per la derivata del denominatore ma sempre rispetto a x quindi qua viene 8x cubo più 2xy quadro e basta uguale adesso il denominatore è sempre lo stesso andiamo a vedere i vari pezzi anzi scusate qua siccome già non lo trovo 12xy in evidenza fatemi mettere in evidenza un 2 porto un 2 fuori poi mi rimane 4 e 1 e questo diventa 12 e porto una x dentro quindi questo viene x alla quarta e questo viene x quadro x quadro allora 12xy qua mi moltiplica meno 2x alla quarta quindi 12xy più 4x alla quarta fa 2x alla quarta poi meno x quadro y quadro più x quadro y quadro se ne va più y alla quarta quindi andando a fare il conto cosa abbiamo scoperto? che è la stessa che è la stessa ora prendiamo una funzione molto più semplice per esempio prendiamo la funzione la chiamo g perché siamo sulla stessa lavagna quindi per non ho controllato le confusioni vediamo g di x y prendiamo un polinomio 3x cubo più x quadro y più 2y quadro facciamo le derivate di g rispetto a x x quando fa le derivate rispetto a x fa 9x quadro più 2xy le derivate di g rispetto a y fa x quadro più 4y adesso facciamo le derivate seconde le derivate seconde di g rispetto a x due volte fa 18x più 2y derivata seconde di g rispetto a y due volte fa 4 poi facciamo la derivata seconde di g fatta per esempio prima rispetto a x poi rispetto a y significa derivare questo rispetto a y fa 2x ma se derivo questo rispetto a x viene sempre 2x quindi come vedete questa o la faccio prima rispetto a y e poi rispetto a x o la faccio prima rispetto a x e poi rispetto a x viene esattamente da lato scherzo qua si usa dire che le derivate in croce cioè quelle fatte una volta rispetto a una variabile una volta rispetto ad un'altra variabile sono uguali ora non credo diciamo voi credete che sia un caso oppure no no perché a parte vabbè se lo facevo qua uno potrebbe dire vabbè ma l'abbiamo fatto per una funzione molto più complicata e viene sempre uguale uno potrebbe avere il sospetto ma questo viene uguale perché quelli sono rapporti polinomi veloce metti qualche funzione che non sia un polinome che non so cominci a mettere qualche radice qualche cosa da genere eccetera fai qualche altro conto e vedi che anche in quel caso le derivate miste sono uguali allora tanto 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 un caso non può essere ok però adesso lasciamo così poi lo riprenderemo quando appunto faremo il tema sull'inversione dell'ordine di derivazione non è vero sempre sarà come il discorso della derivabilità e della differenziabilità la derivabilità non impiega differenziabilità sempre ci vogliono delle ipotesi aggiuntive anche qui non è che le derivate fatte scambiando l'ordine di derivazione sono sempre uguali ci vogliono delle ipotesi aggiù però diciamo che per tutte le funzioni diciamo così non patologiche la cosa è bene se le funzioni sono abbastanza regolari la cosa è bene chiaro? bene oh grazie grazie è vero di questi esercizi dovremmo fare un bel po' però 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 ci mi sono scorciato quindi facciamo di nuovo teorie però una teoria che no no non è vera teoria cioè non sono è lo studio di una cosa che si chiama curve di livello cioè nel senso quindi allora il discorso è così io voglio prendere due funzioni f di xy uguale x quadro più y quadro sono funzioni di due varianti e g di x y uguale x quadro meno y allora voglio ritornare sul discorso sul gradiente e poi voglio introdurre il concetto di potere allora allora il problema è questo il problema di partenza è questo qui io voglio capire dove la funzione cresce dove la funzione decresce ovviamente un modo è fare il grafico prendiamo il grafico della f come voi sapevate il grafico della f è un paraboloide perché ve l'ho detto prima se sappiamo che è un paraboloide con verginell'origine dov'è che la funzione assume il valore minimo nell'origine questa è una somma di quadrati banalmente meno di zero non può fare l'unico modo per fare zero è che x sia uguale a x sia uguale a zero quindi qua non ci vuole nessuna derivata non bisogna sapere nessuna derivata chiaro? dov'è che la funzione assume il valore massimo? da nessuna parla perché ovviamente valore massimo non c'è io posso sempre aumentare x e y non mi aiutare che insomma stare più distante dall'origine più sto distante dall'origine quella è la distanza dall'origine al quadrato quindi più sto distante dall'origine più quella funzione assume il valore di grande ok? bene allora però andiamo a vedere sempre per la funzione f andiamo a vedere due cose prima andiamo a vedere i gradi f i gradi f come fa? 2x e 2x dirivo rispetto a x fa 2x dirivo rispetto a x cosa mi esprime questo gradiente? per capirlo andiamo a fare andiamo a prendere il punto xy andiamo a prendere l'equazione del piano tangente del punto xy prendiamo il punto x con 0 e y con 0 che è meglio dire qua lo 0 posso mettere pure in basso visto che le varianti si chiamano x e y allora il piano tangente al grafico di f nel punto x con 0 più y con 0 quanto fa? l'equazione è z uguale devo fare x quadro più y quadro se vi ricordate f di x y meno f di x con 0 y con 0 quindi x con 0 quadro più y con 0 quadro meno il gradiente nel punto x con 0 y con 0 quindi meno 2x con 0 2y con 0 scalare x meno x con 0 quindi qua mi viene purtroppo è così non è più semplice non è più semplice quindi mi viene x quadro x quadro meno 2x con 0x più più scusate un attimo no vai a questo pezzo non c'è questo è il numeratore è solo questo e questo col più quello stavo scrivendo non il pezzo del piano d'angente stavo scrivendo il numeratore della differenziabilità quello che è diviso per il numero quindi l'equazione se vi ricordate è z uguale ultima variabile più uguale f di x con 0 più gradiente scalabile e ho cambiato segno no me ne sono accorto appena ho visto che c'è non è l'equazione migliata allora qui abbiamo 2x con 0x qua c'è meno x con 0 quadro più qua è più 2y con 0 y poi c'è meno x con 0 quadro meno x con 0 quadro allora vedete che questo piano passa per il punto di questione perché se qua ci metto x con 0 e y con 0 qua mi viene 2x con 0 quadro più 2y con 0 quadro meno x con 0 quadro meno x con 0 quadro più 2y con 0 quadro più 2y con 0 quadro quindi se questo è il punto di coordinate x con 0 y con 0 questo è il punto di coordinate x con 0 y con 0 x con 0 quadro x con 0 quadro x con 0 quadro più 2y con 0 quadro mi passa per quel punto ed è il piano tangente cioè il piano che ha certo che è il piano tangente che è il piano tangente va bene? ora però il tutto si vede male siamo d'accordo che vedere le cose in R3 è più difficile che vedere le cose in R2 mi sembra una cosa la palestra allora vediamo un po' se questo è il piano tangente il piano tangente significa che per piccoli spostamenti mi sposto sul piano mi sposto sulla superficie del grafico grosso modo è la stessa cosa grosso modo è la stessa cosa allora supponiamo che x meno x con 0 y meno y con 0 sia uguale a t per una certa direzione cioè mi voglio spostare in una certa direzione allora t è l'entità dello spostamento perché la direzione c'è lunghezza luna no? valore assoluto di t è l'entità dello spostamento e mi è la direzione verso l'ultimo sposto allora vedete se sto su un piano se io mi sposto in una certa direzione posso salire o scendere immaginate di avere un bel piano inclinato di stare con una bella bicicletta allora io posso decidere di andare in una certa direzione dove la pedalata è molto dura in quella direzione l'altezza sta salendo nella maniera più rapida possibile l'altezza sarebbe la nostra azienda oppure sempre sullo stesso piano inclinato io con la bicicletta posso andare costa a costa e posso rimanere alla stessa altezza oppure giro la bicicletta ma chi mi fa fare fare la salita meglio la discesa quindi come dire tra tutte le direzioni c'è deve stare una che è quella che mi fa salire la funzione più rapidamente una che è quella che è l'opposta che è quella che mi fa scendere più rapidamente e le altre adesso questo vi ricordo era f di x con 0 y con 0 e questo era a che è il gradiente scusate il gradiente di e y con 0 e questo l'ho chiamato t mi allora l'incremento della 0 allora se t è uguale a 0 no questa è una funzione questa è una funzione lineare no e la t allora diciamo l'incremento della 0 cioè z di t meno z di 0 quant'è? ebbè questa costante si toglie perché è come la tutta e due la volta e mi rimane esattamente t per il gradiente di e per calcolare di x con 0 e y con 0 scalare il mi ok? quindi come vedete l'incremento è lineare cioè più mi sposto lineare non perché lo sia veramente se mi muovo sulla superficie non è lineare ma se mi muovo sul piano tangente sì cioè mi muovo dalla posizione poi più mi sposto più no con la mia bicicletta mi sposto di 30 metri faccio una fatica mi sposto di 60 metri faccio una fatica dura e questo coefficiente cosa rappresenta? questo coefficiente rappresenta per ogni unità per esempio se t è uguale a 1 viene esattamente questo coefficiente rappresenta per ogni unità di spostamento quando sale o scende la funzione sale se questo coefficiente è positivo scende se questo coefficiente è meca ora però questo è un vettore fisso guardiamoli dall'alto adesso non guardiamo sopra guardiamoli qua sotto questi qua sono vettori di n2 uno è il gradiente no? il gradiente in questo caso sarà messo così e l'altro è il ni eh quando è che questo coefficiente per esempio fa 0? ni quando sono sto con al allora allora e quant'è che sarà massimo? quando sono paralleli quindi quando ni ha la stessa direzione del gradiente questo coefficiente è massimo quando ni è ortocolonato al gradiente questo coefficiente è 0 quando ni è opposto al gradiente questo coefficiente è massimo col meno quindi è meno chiaro? quindi cosa mi rappresenta il gradiente guardate che non stiamo più sul gradiente ma stiamo nel dominio sotto mi rappresenta nel dominio la si chiama direzione di massima pendenza il gradiente di una funzione rappresenta la direzione di massima pendenza cioè la direzione è tale di mettere sotto del trattatore che per piccoli spostamenti lungo quella direzione il valore della funzione spostamenti infinitesi dovremmo dire lungo quella direzione il valore della funzione aumenta di più di più sempre in questo senso che nel senso che questo coefficiente è più alto se mi sposto in una direzione ortogonale al gradiente l'incremento della funzione non posso sapere se è veramente nullo non saranno diciamo sul piano d'angente è nullo sulla grafica della funzione può essere che sale può essere che scende però non sarà un infinitesimo del primo ordine in t ma sarà almeno un infinitesimo del secondo diciamo di ordine superiore a t più correttamente ok questo lo capiremo meglio in z diciamo sarà pressoché nullo sarà un infinitesimo di ordine superiore ovviamente la direzione opposta al gradiente è quella di massima pendenza al contrario cioè nel senso la funzione scende più rapida quindi io sono partito dal mio grafico e sono mi sono diciamo ricondotto a ragionare su qualcosa che però non sta sul grafico ma sta nel do e allora cancelliamo tutto il grafico e andiamo a vedere il dominio cancelliamo il grafico e andiamo a esaminare il dominio e andiamo a rappresentare un po' di gradienti questo stavolta è il piano xy poi c'è l'origine allora prendo un punto il punto xy è xy se ci fate caso questi gradenti prolungati passano tutti per l'origine poi se sto più non andando all'origine il gradente è più lungo questo è invece se sto qua per esempio sono vettori più corti vabbè se diciamo io non posso rappresentare in ogni punto altrimenti avrebbe una selva di frecce che non si capisce ora vedremo che qua in ogni punto rappresenta il gradiente che è un vettore quando in ogni punto rappresentava un vettore si chiamerà un campo vettoriale ora questo campo vettoriale è più o meno a occhio e croce fatto così sapete come si rappresentano i campi vettoriali in visita è così insomma sono tutti i vettori che diciamo sono messi radialmente e più mi allontano più hanno intensità grande o però quindi questo che mi dice che io più mi allontano dall'origine più la funziona aumenta e questo lo sapevo già anzi se scelgo una direzione se sto diciamo se mi sono allontano già in una direzione la cosa migliore da fare è continuare diciamo per aumentare più rapidamente e continuare in quella direzione all'inizio però diciamo è chiaro che se io sono arrivato qua poi arrivato da quest'altra parte crescerò se mi hanno dato l'origine però un po' di meno però c'è un altro modo di leggere la cosa che è più conveniente andiamo a studiare queste equazioni qua questa equazione qua cosa mi dice cosa mi rappresenta nel piano che mi rappresenta? se k è positivo la circonferenza se k è negativo non è niente se k è zero è un punto è l'origine e cosa rappresenta? per esempio se k è uguale a 4 rispetto alla mia funzione rappresenta l'insieme dove dei punti dove la mia funzione vale 4 questa qui si chiama curva di livello la curva di livello f di x y uguale k è l'insieme dei punti dove la funzione vale k cioè dove c'è il livello k allora se io vado a vedere le mie curve di livello come sono fatte le mie curve di livello? non sono solo centri ma sono tutti di centro l'origine ok? e che mi succede quando vado a vedere il gradiente su un punto di una certa curva di livello il mio gradiente è qua come deve essere messo rispetto alla curva di livello? ah beh se vado a una certa parte vuol dire allora da qua a qua k aumenta o no? o diminuisce? basta avere i due punti di gradiente il punto della funzione aumenta qua se k è uguale a 1 qua k è uguale a 4 10 quindi chiaro? il gradiente è punto dove resta la funzione aumenta ma l'osservazione fondamentale non è questa se io avessi avuto una curva di livello fatta così e dovessi rappresentare il gradiente deve essere perpendicolare alla tangente alla mia curva supponiamo che la mia curva di livello sia il gradito di una fusione il gradito di una fusione avrà la tangente il gradiente e questa tangente devono essere ortogonale e per forza per quale motivo? perché per piccoli spostamenti o mi sposto lungo la tangente o mi sposto lungo la curva di livello è la stessa cosa ma quando facevo uno spostamento nella direzione ni l'ingegamento della funzione quant'era? era t per il gradiente scalare mi ma allora siccome sulla curva di livello qual'è l'ingegamento della funzione? se mi muovo lungo la curva di livello qual'è l'ingegamento della funzione? la funzione è costante l'ingegamento deve essere 0 allora che vuol dire? che il gradiente scalare ni deve fare 0 basta applicare questo punto chiamiamolo x0 y0 allora basta applicare vabbè lo scrivo in più variabili tanto è la stessa cosa f di x è uguale a f di x con 0 più gradiente di f x con 0 scalare x meno x con 0 più termini di ordine superiore supponendo che la mia funzione sia differenza quella in questione lo è ok adesso questi trasferiamoli al primordine questo cosa rappresenta? rappresenta l'ingegamento porti questo all'altra parte è l'ingegamento della f l'ingegamento della f è il gradiente scalare lo spostamento gradiente scalare lo spostamento adesso se io mi sposto lungo una curva di livello per definizione di curva di livello l'ingegamento è 0 quindi il gradiente scalare lo spostamento deve fare 0 ma lo spostamento per P ha meno di infinità di smi di ordine superiore adesso qual è lo spostamento? sempre per le spostamenti piccoli lo spostamento è quello secondo la tangente a questa cuffia la grafica rappresenta questo insieme quindi comunque sarà sempre la stessa c'è sempre la stessa frequenza quindi questa direzione e la direzione del gradiente devono essere ortogonali quindi abbiamo scoperto che il gradiente è sempre ortogonale in ogni punto alle curve di livello quindi se io disegno la curva di livello se io disegno la curva di livello è inutile disegnare il gradiente perché io già so se faccio il gradiente qua verrà così qua verrà così qua verrà così verrà sempre il tuo go? l'unica cosa che non so è l'intensi può cambiare da fine però pure quella si capisce allora vediamo un po' andiamo a vedere le curve di livello facciamo x quadro uguale a 1 qual'è? allora qua abbiamo k uguale a 1 poi x quadro più x quadro uguale a 2 cos'è? è la circonferenza di raggio radical 2 ma radical 2 non è 2 è 1 e 4 è qualcosa quindi qua abbiamo k uguale a 2 poi x quadro più x quadro uguale a 3 sarà 1 e 7 qualcosa radice di 3 quindi qua k uguale a 2 poi abbiamo 2 va bene e quando scusate abbiamo k uguale a 4 x quadro di raggio 2 in cui k uguale a 4 allora cosa vedete? vedete che le mie curve di livello in questo caso sono circonferenze concentriche ma se prendo k che incrementa in maniera regolare 1,2,3,4 cosa succede? che le curve diciamo la distanza tra le circonferenze concentriche diventa sempre più piccola questo che vuol dire? allora cerchiamo di cambiare perché innanzitutto queste allora non è detto che debba essere semplici circonferenze le mie curve di livello sono come le isoipse sapete cosa sono le isoipse? l'avete fatto un po' di geometria alla scuola superiore le curve le curve che uniscono tutti 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 la stessa attenzione allora per esempio io posso avere delle solite fatte così invece che fatte come oh però quando queste curve sono chiuse e mi stringono su un punto che significa? che significa? o un minimo? dipende qua per esempio c'è un minimo k è uguale a 0 rimane solo il punto punto k è uguale a 1 sono salito k è uguale a 2 sono salito quando le isoipse si infettiscono cioè la distanza si diminuisce che significa? allora se io ho preso k che incrementa ogni volta di 1 la variazione di altezza da qua a qua quant'è? 1 da qua a qua 1 da qua a qua ancora 1 da qua a qua ancora 1 allora che vuol dire? che io realizzo un incremento di un metro in meno sparsi quindi che vuol dire? che il mio grafico i miei piani tangenti saranno più inclinali qua la pendenza è maggiore quando sono fitte quando le isoipse sono fitte la pendenza è maggiore quando le isoipse sono lasche per fare un'unità cioè le isoipse per esempio voi le fate con 100 metri o 50 metri una cosa del genere fate 100 200 allora se sto 100 metri qua fate in questo stretto spazio siete stati di 200 metri qua per fare 100 metri avete fatto un diciamo dovete passare da qua è molto più lungo quindi vuol dire isoipse lasche vuol dire funzione meno grafico della funzione meno pendente isoipse strette e la pendenza chi me la dà? il modulo del gradiente allora isoipse strette vuol dire modulo del gradiente grande isoipse lasche vuol dire modulo del gradiente piccolo quindi disegnando le isoipse o le curve di livello io so anche indirettamente ho un'indicazione anche sul modulo del gradiente allora qua quando arriva a un punto in quel punto se c'è il gradiente quando deve fare? deve essere il vettore? nullo ma per forza poi lo dimostreremo analiticamente però per forza deve essere il vettore nullo lo vedete qua vicino il gradiente impazzisce in tutte le direzioni possibili allora l'unico modo se il gradiente è una funzione continua quando arriva a restringersi su un punto quella curva di livello e il gradiente non può andare in tutte le direzioni l'unico modo è che il modo lo deve fare e questo qua lo dimostreremo in maniera analitica non così a parole però e quello sarà un punto dove stringo le curve di livello sarà un punto dove c'è un massimo o un minimo o un minimo locale locale c'è un po' funziona della montagna adesso andiamo ad esaminare quell'altra funzione e studiamola allo stesso modo allora cancelliamo la f e non mi serve più prendiamo la mia g allora il gradiente oh in effetti il gradiente della f era 2x 2y quando è che si è annullato quando x era uguale a y uguale a z quindi adesso prendiamo il gradiente della g questo è 2x meno 2y anche questo gradiente si annulla nell'origine solo nell'origine però l'origine in questo caso non è né un massimo né un minimo infatti se io mi sposto lungo la x x quadro mantenendo la x uguale a 0 fa x quadro quindi è un minimo se mi sposto lungo la y meno y quadro è un massimo allora per capire come sta la situazione cerchiamo di capire di andare a disegnare le pulve di livello tanto abbiamo visto che per disegnare per capire la funzione dobbiamo capire i gradenti per capire le pulve di livello quindi alla fine se disegniamo d'altro canto non ci sarà un motivo perché le mappe sono fatte con le isorci se no perché disegnando le isorci io capisco la montagna cioè non è che ci vuole da ok allora andiamo a fare le mie curve di livello per quest'altra funzione allora facciamo x quadro meno y quadro uguale k cominciamo col caso k uguale a 0 cosa mi viene? mi vengono le bisettrici del primo diciamo le due bisettrici dei vari quadrati qua abbiamo k uguale a 0 x quadro uguale a y quadro e y uguale a più o meno questa è la curva di livello dove la funzione vale 0 su due rette che si introdurano? andiamo a vedere k uguale a 1 x quadro meno y quadro uguale a 1 che cos'è? è un iperbolo l'abbiamo studiato e l'iperbolo dove è messa? di così o di così? io direi così così qua è k uguale a 0 e qua è k uguale a 1 perché è di così? lo sapete no? perché se io metto y uguale a 0 x quadro uguale a 1 la soluzione è 1 e meno 1 dall'altra parte soluzione è 1 e k uguale a meno 1 allora k uguale a 2 eccetera saranno sempre iperboli da questa parte quindi sarà così sarà così sarà così è la stessa cosa dall'altra parte il k uguale a meno 1 sarà dall'altra parte sarà così non pretenere un disegno perfetto mi tocca questo avvicina gli asingoni però farlo avvicinare nella maniera giusta senza farlo toccare è quasi così va bene qualche altro uguale a meno 1 allora ma che grafico può essere? è una cosa che ha le curve di livello fatte così vedete io se mi mantengo costa costa la funzione rimane costante se mi sposto da questa parte il grafico la funzione cresce qua e in mezzo da quest'altra parte qua la funzione cresce verso l'origine come è fatto un grafico del genere? vabbè questo punto qua vi dico già come si chiama si chiama punto sella punto sella poi provate ad affettare una sella allora quando la affettate a una certa altezza che diviene 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 una iperbole dovete immaginare la serra con vino no? un pezzo di iperbole super quando arrivate a questo punto qua l'iperbole degenera in due tre è l'unico punto dove affettando la vostra sella voi invece di ottenere due pezzi mi ottenete quattro e ottenete pezzo di sella di qua pezzo di sella di là posto là di sopra se l'affettate in maniera esatta se invece affettate sotto cosa otterrete otterrete un iperbole all'altro senso quindi affettandola sotto questo pezzo rimane unico e qua si stacca un pezzo qua e un pezzo all'altra parte quando lo affettavate sopra al punto sella si staccava un orecchio di qua un orecchio di là e il pezzo sotto rimaneva tutto in dentro se non siete commigli via da una sella e sacrificatela con più sella la prima volta sbagliate siccome una sella costa fatela di cartone fate qualcosa ok o fate un programmino a computer che faccia la simulazione ok l'ultimo è più facile anzi ci sta già fatto ok allora qui la situazione qual è la curva di livello ricordatevelo ripartisce sempre ripartisce sempre il mio dominio nella zona dove la funzione è più piccola e la zona dove la funzione è più grande però certe volte le zone non sono due ma sono per esempio quattro perché qua la funzione valeva meno di zero qua vale zero qua la funzione vale più di zero dici ma questo è un esempio fatto adatte e particolare no non è particolare perché supponete di avere allora questo è il dominio su cui ci sta la funzione che mi dà il grafico di rilevo di Monte Cassini allora qua ci sta Roccaiano allora il mio salto a 50 metri è Roccaiano non è più di 50 metri poi salto a 100 metri fa così salto a 150 metri e fa così qua ci sta Roccaiano questa qua da una deve essere diventata tu per diventare da una tu cosa deve essere successo? è successo che a un certo punto ci deve essere staccato e per staccarsi come fa? punto sel e si stacca poi dopo questo si stringe qua ci sta Roccaiano e qua ci sta Roccaiano anche qua va bene? ok quindi la presenza di due massimi locali mi ha originato il fatto che le mie isoxi a un certo punto si devono spaccare si devono staccare devono diventare all'inizio sulla pianura era magari una sola poi devono diventare due se ce ne stanno di più è ancora peggio ma insomma supponiamo ci sia solo Montecastino e Roccaiano e per far questo ci deve restare per forza qua in mezzo un punto sel se no come fanno a staccarsi? è chiaro? ok quindi questa è proprio la situazione estrema qua siamo sul link e nel punto sel il gradiente quanto deve fare? qua è più facile ancora che nell'altro caso qua è proprio quasi la dimostrazione il punto sel il gradiente deve essere nulla perché avevamo detto il punto sel cioè in un punto il gradiente deve essere ortogonale alle curve di livello allora vedete qua ci avete la direzione di una curva è un pezzo della curva lì come direi la curva dovete pensare come se fossero due sono queste due rette su ambe due le rette la mia funzione è ecco allora se su una retta la funzione è costante il gradiente deve andare nella direzione ortogonale quindi deve essere ortogonale alla prima retta e deve essere ortogonale alla seconda ma l'a retta è una direzione diversa l'unica direzione deve ortogonale tutte e due è la direzione quindi come vedete il gradiente non è nullo solo nei punti massimi di min ma anche in altri punti quindi supponendo che la funzione sia differenziabile la novità del gradiente non sarà una condizione necessaria ma non sufficiente per avere massimi se invece non supponiamo che la funzione sia differenziabile non è manco necessaria perché allora il discorso con le curve di livello qua il gradiente potrebbe allora cosa può fare il gradiente qua supponiamo che la funzione non sia necessariamente differenziata cosa può fare il gradiente in quel punto o è nullo o non esiste chi ha detto che il gradiente esiste pensate a un cono il cono sulla sommità è massimo sull'ufficio con la credente non ci sta se non ci sta quando il cono era girato sotto non ci sta quando il cono era girato sotto o no vi ricordo che quello che voi ricordate come un teorema di Fermat che dice in un punto di massima minima la derivata la funzione è nulla suppone che la funzione sia derivabile se la funzione non è derivabile cioè non è una posizione necessaria la funzione è anche di una variabile questo è un massimo locale e la derivata non è nulla chi ha? è semplice ma la derivata non ci sta proprio come curve di livello invece basta che la funzione sia un poco meglio che continua ma non è necessario essere differenziati le curve di livello hanno un andamento già abbastanza regolare ok? quindi come riuscire a distinguere i punti di massima e di minimo sono quelli in cui le curve di livello si stringono ad un certo punto diventano ellissime praticamente diventano ellissime non è detto che sia una circompetta adesso è ellissime per piccoli spostamenti come invece quando le curve di livello hanno un incrocio si tratta di un punto sella ovviamente questo non non è tutta la patologia possicisa c'è molto di peggio però questi sono i due casi principali che possono verificarsi e quelli che regolano nella pratica il 99% dei casi che vi capiterà ok? ma in entrambi i casi sia per i punti di massimo e di minimo sia per i punti sella il gradiente deve essere ok? ok? grazie a tutti